Con una media nazionale di tre morti al giorno, quello degli incidenti sul lavoro resta il problema dei problemi, in Italia come in Abruzzo, regione che più di una volta ha indossato la famigerata maglia nera nell'infausta classifica. Anche nel 2022 i numeri non demordono. Dall'inizio dell'anno nella nostra regione sono stati già 12 i morti sul lavoro, l'ultimo ieri al porto di Ortona, e più di 12.000 gli infortuni denunciati. La verità dunque è che di lavoro si continua a morire o a vivere male, atterrati da una delle tante malattie professionali. Per analizzare i dati e studiare le contromisure, i sindacati hanno più volte sollecitato l'istituzione di un tavolo regionale. Recentemente se ne era parlato anche nella trasmissione di Rete 8 i fatti e le opinioni. Oggi, finalmente, il tavolo c'è. È stato attivato il 2 novembre, quando si è svolta la prima riunione, che verrà replicata il 5 dicembre. È chiaro che c'era un'indambienza rispetto all'applicazione di una legge dello Stato, l'articolo 7 del decreto 81, che prevede appunto che ogni regione ci sia questo tavolo. In Abruzzo non eravamo riusciti ormai da tempo a ricostruirlo. Finalmente il 2 di novembre c'è stato il primo incontro, c'è stato l'insediamento, c'è stato ovviamente anche un primo scambio di vedute rispetto alle priorità, che sono molte, perché appunto ogni volta che si parla di infortuni ci si indigna rispetto a quello che purtroppo è una catastrofe, sostanzialmente sono numeri da bollettino di guerra, però poi dopo ci si dimentica facilmente. Il dato oggettivo dell'Abruzzo è che non c'è una sola banca dati univoca rispetto alle ASL, all'IMS, all'INAIL e ovviamente a tutti quelli che sono anche gli altri soggetti. Inserire dentro anche il discorso degli RLS e gli RLST, che sono i rappresentanti dei lavoratori anche nelle piccolissime aziende, provare tutti insieme ad avere delle priorità. L'informazione e la prevenzione degli infortuni deve diventare materia anche di dibattito a partire dai livelli scolastici, i lavoratori si formano da piccoli. La formazione deve diventare nel ciclo della vita lavorativa di una persona come alla pari di una qualsiasi insegnamento rispetto al lavoro che va a compiere, quindi prevenire è sicuramente meglio che curare. Qual è il campo più colpito? L'edilizia, l'agricoltura, ma ormai la logistica è uno dei settori più coinvolti, ma ci sono anche tanti altri settori minori perché poi oltre agli infortuni e alle morti parliamo anche delle malattie professionali di cui spesso non si parla, ma sono altrettante casistiche che ti portano ad avere dell'invalidità futuro in capo a quei lavoratori, quindi non c'è un solo settore. In questa regione ad esempio nessuno parla dei rider, però anche quello ormai è un settore dove ci sono infortuni, dove cominciano ad esserci delle problematicità importanti.